Domani, martedì 15 novembre alle ore 18, presso la comunità montana Gelbison Cervati, incontro sui borghi della dieta mediterranea. Dopo il successo dell'ultimo incontro sulle nuove misure del Gall Cilento Rigenerazio a Laureana Cilento, presso la comunità montana Lento Montestella, si riparte da Vallo della Lucania con il tema sulla politica agricola comunitaria, il primo di una serie di 11 incontri con le diverse comunità locali sulla nuova programmazione Europa 21-27. Presso la sede dell'ente montano interverranno il sindaco di Vallo della Lucania Antonio Sansone, il presidente della comunità montana Gelbison Cervati Carmine Laurito, il consigliere di amministrazione Gal Giuseppe Scorza, Luca Cerretani, coordinatore Gall Cilento Rigenerazio, Claudio Aprea, progettista della strategia di sviluppo locale 14-20, i borghi della dieta mediterranea, mentre le conclusioni saranno affidate al presidente del Gall Cilento Rigenerazio, Gabriele De Marco. Sono 11 incontri che noi faremo nei vari paesi, nelle varie zone, nei vari distretti. Spiegheremo quali sono le politiche comunitarie, la prima sono i PAC, parleremo dei PAC, cioè le politiche agricole comunitarie, così inizieremo domani di sera la comunità montana. Quindi in realtà quali sono gli obiettivi della comunità economica europea, obiettivi che vengono recebiti dalla regione e poi recebiti da noi che siamo in pratica una longa manos della regione. E quindi informare i cittadini quali sono le loro possibilità rispetto soprattutto alla questione verde, alla questione energetica. Sono cinque veramente i pilastri su cui ruoteranno queste nostre informative. Quindi in realtà sono le informative che poi saranno tradotte dalla comunità europea e poi dalla regione, e anche poi da noi nelle famose misure che sapremo nel periodo da marzo in poi del 2023. Pensate che siamo 43 comuni e quindi poi andremo nei vari territori, andremo a Monteforte, andremo a Altavilla, faremo questo giro che si concluderà i primi di gennaio. È interessante informare i cittadini su questo aspetto perché poi ci saranno le misure che permetteranno ovviamente sia ai privati, ai privati in questo caso, e agli enti, alle aziende, di fare le loro domande per avere dei contributi. La massima parte sono a fondo perduto per iniziare attività, per proseguire le attività che hanno. Insomma sono cose molto interessanti. Quindi è bene che venga informata la cittadinanza e che la cittadinanza partecipi anche a questi incontri preliminari, diciamo così, per capire quali saranno gli sviluppi e dove vuole la comunità europea che si sviluppi le nostre politiche.